un po di tempo fa leggevo su twitter il sorriso è un sogno che ce l'ha fatta ed io ho realizzato il mio quando ho incontrato voi vi è mai capitato di voler bene a qualcuno che però non siete mai riusciti ad incontrare provate a pensare un cantante un attore famoso o un amico a distanza beh a me è successo non sono come tutti gli altri qui su youtube non penso che dietro uno schermo ci siano solo degli numeri degli iscritti ma persone persone fatte di sentimenti di pensieri di storia da raccontare non mi sarei mai aspettato che qualcuno potesse partire da casa spendere dei soldi per un biglietto del treno solo per vedermi per potermi parlare non mi sarei mai aspettato di ricevere dei cartelloni con le mie foto di vedere delle frasi che ho detto in alcuni video scritte dalle vostre mani su un cartoncino oggi più che mai capisco che quello che faccio qui su youtube è farvi vedere quello che ho dentro ho tanto da dirvi da raccontarvi da trasmettervi non voglio essere il vostro idolo ma qualcuno con cui parlare qualcuno a cui dire cose fatto di bello oggi mi sono emozionato ed ho pianto lo ammetto ascoltare le vostre parole le vostre storie mi ha riempito di felicità il cuore mi sono sentito amato e speciale e non smetterò mai di dirlo perché è la verità non c'è cosa più bella che essere e sentirsi amati volevo semplicemente ringraziare chi c'è stato grazie per gli abbracci forti forti per le foto fatte insieme grazie davvero per ma grazie anche a chi non è potuto venire ma c'è stato col pensiero leggo sempre i vostri messaggi e non smetto mai e dico mai di volervi bene grazie solo questo questo è solo l'inizio di un lungo viaggio che spero di poter percorrere mano nella mano insieme a voi grazie a tutti